Sono immagini che nessuno di noi avrebbe voluto vedere e su questo poi la magistratura farà gli interventi del caso. A Trento la Ducenta, in provincia di Caserta, dove ha presenziato all'inaugurazione di una mostra fotografica, Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, interviene sui fatti avvenuti all'interno del carcere di Santa Maria Capuavetere. Però bisogna anche dire che non possiamo noi, sulla base di alcune persone, criminalizzare un intero corpo, qual è quello della Polizia Penitenziaria, che ha un lavoro complicato e difficile. È necessario fare chiarezza, però mi raccomando soprattutto che non ci sia un atteggiamento nei confronti della Polizia Penitenziaria che prenda spunto da episodi tragici che mai devono verificarsi più. Intanto prosegue l'inchiesta della Procura. Per il GIP le violenze nel carcere sanmaritano non si configurerebbero come un mero incidente di percorso, ma con tutta probabilità come una costante nel rapporto tra gli indagati e i detenuti e quanto emerge dall'ordinanza con la quale il 28 giugno scorso sono state disposte le 52 misure cautelari.